Sulle Alpi, 300 passeggeri. Quando è successo? Ora. Ho deciso di nominarti investigatore capo di questo caso. La scatola nera cosa riporta? Il registratore ha rivelato l'intrusione di un passeggero nella cabina. Quindi è stato un attentato terroristico? È stato un attentato! Sei stato il primo a dirlo! Non è andata così. Sei pazzo! Ci sono delle anomalie e delle incoerenze. In prima visione, sei andato oltre. Black Box, la scatola nera. Martedì alle 21.20 Rai 4